Eccoci, buona domenica a tutti, sempre Roberto Vassei, sempre su Legnano News, puntata numero, se non sbaglio, numero 42 e oggi giochiamo con una moneta, ok? Nel corso di questi mesi vi ho fatto vedere, vi ho insegnato alcune tecniche per far sparire o trasformare dei piccoli oggetti oggi facciamo un passo oltre, quindi vi voglio spiegare un metodo per far sparire una moneta che si chiama, questo sistema si chiama Retation Vanish ovvero sia, fino all'ultimo lo spettatore vede la moneta che poi sparisce e si fa così, quindi moneta della mano, si chiude la mano e quando si chiocca le dita la moneta è sparita come si fa a fare questo gioco? Questo gioco di destrezza? Ok, si prende la moneta in questa maniera, perfetto, tra il pollice e l'indice si mette nel palmo della mano sinistra, quando si chiudono le dita così, la moneta fa questo movimento, guardate, la mano destra fa questo porta via la moneta in mano, ok? Lo tiene alla base delle dita in questa maniera qua, schiocca le dita e la moneta è sparita quindi dal davanti viene in questa maniera, ok? Dal dietro la tecnica segreta è, si mette, quando si chiudono le dita la mano sinistra la mano destra porta via la moneta in questa maniera, ok? Si schiocca le dita e la moneta sparisce Bene, buon inizio settimana a tutti e ci vediamo alla nostra prossima puntata, mi raccomando distanziamento, mascherina e lavarsi le mani. Ciao, buona domenica a tutti!